E' un paio di giorni che si sta parlando sempre di più di questa lite furiosa che c'è stata in diretta a TV. E' trascorsa una settimana da quando il pubblico per la prima volta assistito a una clamorosa scena tra il conduttore e Gianni Foliti. Ci sono state delle varie incomprensioni che sono andate in onda l'11 di giugno davanti alle telecamere di uno mattina che poi a distanza subito di qualche giorno forse riescono a essere chiarite in maniera definitiva facendo tornare la benedetta pace. Pubblico senza parole davanti alla scena di Foliti che ha lasciato lo studio abbastanza infastidito dopo aver visto il conduttore sbuffare. Ma scopriamo come sono andate le cose subito dopo lo scontro. Stando a quanto rivelato da TV Blog i due si sarebbero pacificamente incontrati qualche giorno dopo la lite in diretta TV. Tutto sarebbe accaduto nello studio di uno mattina in famiglia a telecamere accese. Abbiamo un 73% di notizie false, questa settimana è stato toccato il record mondiale, ha esordito Gianni Foliti, e Timperi, che c'è, domanda per poi ricevere la risposta del giornalista, e no è. Non c'è niente. Comunque ha detto bene, questa è stata una settimana di false notizie. Una resa dei conti con Tony amichevoli, facciamo i conti? Dopo facciamo i conti, ha proseguito Ippoliti che ha poi letto e commentato una lettera di Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, in occasione dell'edizione 2023 del nostro premio. Ho il piacere di comunicarvi che la rassegna stampa di uno mattina in famiglia a cura di Gianni Ippoliti sia giudicata l'ambito riconoscimento primeggiando nella categoria press tv show. Insomma, tra i due sembra essere tornato il sereno e la resa dei conti avrebbe dunque ripristinato l'equilibrio tra gli umori. Sbuffate, continuate a sbuffare, è stato il secco commento di Gianni Ippoliti al momento della lite prima di abbandonare lo studio televisivo, parole che rimarranno nella storia del programma e su cui fortunatamente i diretti interessati sono tornati a scherzarci. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.